Bentornati su meteogiuliacci.it Venerdì 18 ottobre, altra bella giornata di sole sull'Italia grazie all'alta pressione nordafricana tornata ad occupare la nostra penisola regalandoci per qualche giorno prevalenza di sole e temperature miti per il periodo Dall'immagine del satellite virtuale vediamo infatti un'Italia praticamente sgombra da nubi segno appunto che l'alta pressione sia ormai insediata sulla nostra penisola tenendo lontani i sistemi nuvolosi dalla previsione infatti vediamo tanto sole da nord a sud disturbato appena da qualche nuvoletta innocua le temperature vedranno un leggero calo in tutta Italia ma su valori ancora miti per la stagione avremo massime comprese tra 18 e 21 gradi al nord tra 20 e 23 gradi al centro tra 22 e 24 gradi al sud e sulle due isole maggiori con punte di 25 su queste ultime il bel tempo ci accompagnerà anche sabato sebbene con un aumento delle nuvole al nord ovest in Toscana prime avvisagli di una nuova perturbazione che domenica potrebbe riportare piogge in gran parte del nord in Toscana ma per ulteriori aggiornamenti vi invito a consultare il nostro sito meteogiuliacci.it grazie a tutti grazie a tutti